buongiorno bentornato e bentornati a questa nuova puntata di io non mi rassegno spero che abbiate passato delle buone vacanze io personalmente ho passato le buone vacanze anche se attualmente ho due grossi problemi il primo è che in queste tre settimane la mia sveglia ha iniziato a slittare verso in avanti insomma di mezz'ora in mezz'ora attualmente si è attestata attorno alle nove e mezzo che è relativamente presto per i miei vecchi standard pre rassegna ma è tardissimo se confrontata alle 7 e un quarto in cui ho la sveglia normale diciamo quando faccio la rassegna il che può voler dire che in questa rassegna in particolare dirò delle cose senza senso più senza senso o meglio con meno senso rispetto rispetto al passato ma voi fate finta che ne abbiano il secondo problema è che sono successe un sacco di cose in queste tre settimane di cui tra l'altro non avevo staccato abbastanza quindi mi sono perso un bel po di cose ho provato a recuperare nel insomma questa mattina e un po ieri e tra l'altro mi sento il dovere morale di rimettervi in pari su tutte le cose successe nel periodo in cui non ci siamo sentiti anche perché insomma nel caso in cui ci fosse qualche disadattato che si informa solo esclusivamente seguendo io non mi rassegno non so sento questa sorta di dovere giornalistico quindi veniamo alla puntata di oggi in cui proverò appunto a fare un po un riassunto delle varie cose successe in questo periodo tranne mettendo da parte per adesso l'argomento covid perché è un argomento vastissimo con tante implicazioni a cui magari dedichiamo la puntata di domani per cui nella puntata di oggi ci concentriamo sulle altre cose principali che sono dal mio punto di vista l'avvelenamento di Alexei Navalny il principale oppositore di Putin presunto avvelenamento poi vediamo meglio le elezioni in Bielorussia il maltempo in Italia e le ultime gli ultimi studi sullo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia che ci dicono che forse abbiamo superato il punto di non ritorno e infine le ultime sperimentazioni di Neuralink a cui abbiamo già in passato dedicato una puntata allora cominciamo il 20 agosto appunto Navalny che è uno dei principali il principale forse oppositore di Putin si è sentito male mentre era in volo insomma stava viaggiando su un aereo e fin da subito il sospetto è che fosse stato avvelenato anche se inizialmente diciamo lui è stato poi ricoverato in un ospedale russo in Siberia inizialmente i medici russi hanno affermato che hanno smentito perlomeno che ci fossero tracce di veleno nel suo corpo solo che successivamente Navalny è stato poi trasportato su richiesta del suo staff in una clinica tedesca a Berlino e invece i medici tedeschi sembrano aver trovato tracce di avvelenamento ovviamente i principali sospetti ricadono sull'entourage di Putin che potrebbe essere dietro l'operazione visto che varie volte in Russia gli oppositori del leader del Kremlin sono stati fatti fuori con queste modalità anche se c'è chi fa notare che in questo momento il presidente russo non ha poi granché da guadagnarci da questa situazione che anzi compromette ulteriormente la sua immagine soprattutto a livello internazionale quindi i sospetti e i dubbi restano aperti ancora non c'è una soluzione chiara a questa sorta di giallo di spionaggio estivo. Restiamo in tema di geopolitica perché e torniamo indietro però di una decina di giorni perché il 9 agosto ci sono state le elezioni presidenziali in Bielorussia e il risultato era abbastanza scontato non tanto che il risultato del vuoto che non era per niente ma il risultato finale delle elezioni. Nel senso che ha vinto di nuovo Lukashenko che è in carica ormai da 26 anni tant'è che è soprannominato l'ultimo dittatore di Europa e fate conto che in pratica Lukashenko ha vinto le prime elezioni libere in Bielorussia nel 94 e da allora è sempre stato è sempre stato rieletto solo che in questo caso come anche altre volte in realtà sulle elezioni che sono state vinte dal presidente con oltre l'80% le preferenze pesano però pesanti accuse di brogli elettorali, pesanti sospetti. Tant'è che ci sono vari elementi che ci vanno a pensare questa cosa che tant'è che poi si sono scatenate tutta una serie di proteste in piazza di cui adesso parliamo ma uno dei motivi è che ad esempio le autorità bielorussi avevano detto che quasi la metà degli elettori aveva votato in anticipo e che è una cosa abbastanza sospetta perché vuol dire che poi non si sarebbero recati il giorno delle elezioni ai seggi elettorali. Si era tra l'altro trattato di un aumento enorme del voto anticipato che era stato finora un fenomeno abbastanza marginale e che era sembrato molto strano e lo è diventato ancora di più quando poi il giorno delle elezioni in molte città sono state, sono verificate code e code di ore per i seggi il che rendeva appunto poco plausibile che la metà degli elettori avesse già votato nel voto anticipato. Tra l'altro in alcuni seggi dove l'opposizione sostiene che i voti siano stati conteggiati regolarmente la principale oppositrice di Lukashenko, Svetlana Tikhanoschiava, sempre che si pronunci così, che attualmente è fuggita peraltro in Lituania dopo le votazioni, ha ottenuto il 60% dei voti. Quindi un risultato che fra l'altro confermerebbe un sondaggio che era stato fatto, un sondaggio indipendente che era stato fatto prima delle elezioni e che vedeva appunto il presidente Lukashenko in svantaggio rispetto alla sua principale oppositrice, ma in svantaggio anche di parecchio. Solo un terzo degli elettori avrebbe sostenuto ancora Lukashenko secondo questo sondaggio. Fra l'altro appunto subito dopo il voto sono scoppiate delle fortissime proteste che in realtà ancora si protraggono, tant'è che nella giornata di ieri ci sono state alcune delle manifestazioni più grandi dall'indipendenza con la Russia. Quindi il New York Times parla addirittura di 100.000 persone scese in piazza, che ovviamente sono tantissime, soprattutto per un paese relativamente piccolo come la Bielorussia. E anche l'Unione Europea si è schierata apertamente contro il presidente Lukashenko non riconoscendo l'esito del voto e dicendo che seguiranno sanzioni. La Russia dal canto suo è rimasta alleata appunto del presidente bielorusso, anche se ha affermato con un comunicato ufficiale il Cremlino che le elezioni non si sono svolte proprio in maniera ideale. Quindi è un modo sottile per dire che formalmente si distanza in parte da quanto è avvenuto, ma comunque conferma la sua solida alleanza al governo bielorussio. Va bene, venendo invece più verso gli ultimi giorni di agosto e cambiando radicalmente tema, abbiamo osservato e stiamo ancora osservando di nuovo l'Italia sconquassata dal maltempo. L'Italia e anche buona parte dell'Europa. Con lunghi fragi, allagamenti, soprattutto nel nord ci sono l'Adige e l'Isarco che hanno esondato, l'autobrennero chiusa e così via. Ci sono stati un sacco di disagi per quelli che sono fenomeni che, come ripetiamo spesso in questa rassegna, purtroppo stanno diventando e diventeranno ancora più frequenti e più violenti. Tra l'altro nel frattempo abbiamo anche scoperto, sempre in questi giorni in cui ci siamo sentiti, che forse i ghiacciai della Groenlandia hanno superato un punto critico di non ritorno. Ovviamente il macro tema di cui stiamo parlando, immagino che l'abbiate capito, è quello dei cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda il maltempo in Italia, sia per quanto riguarda appunto quest'ultimo studio. C'è uno studio appunto che è comparso su Natural Communication Earth and Environment, in cui i ricercatori dell'Università Pubblica dell'Ohio, studiando e analizzando dati dagli ultimi 40 anni relativi appunto all'andamento dei ghiacciai della Groenlandia, hanno fatto, sono giunte alla conclusione che se anche per assurdo il cambiamento climatico, insomma le emissioni di CO2 si fermassero oggi e smettessimo di appunto emettere gas clima alteranti in atmosfera, lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia andrebbe avanti fino alla totale scomparsa della calotta. Questo perché le nevicate che riempiono periodicamente la stessa calotta glaciale e che vanno a rinforzare i ghiacciai non tengono il passo con il ghiaccio che si scioglie invece nel periodo estivo, tant'è che appunto quella calotta potrebbe scomparire. C'è addirittura chi dice nei prossimi sei mesi, c'è chi dice nei prossimi dieci anni, non si sa esattamente, però sembra abbastanza probabile che appunto il punto di non ritorno climatico sia ormai stato superato per quanto riguarda quel ghiacciario. Infine, ultima notizia del giorno, per tornare su un argomento a cui abbiamo dedicato anche uno speciale che se non vi siete visti andatevelo a vedere, ve lo lascio ovviamente in descrizione. Qualche giorno fa Elon Musk ha presentato gli ultimi sviluppi di Neuralink, che sarebbe quell'interfaccia uomo-computer che viene applicata nella calotta cranica e permette di leggere i circuiti neurali e poi trasmettere tramite bluetooth ad altri dispositivi esterni che possono essere un computer o uno smartphone. Neuralink non ha ancora ottenuto i permessi per la sperimentazione sugli esseri umani, per cui le prime sperimentazioni, le attuali sperimentazioni sono state fatte su dei maiali. La presentazione è stata fatta dal vivo, è stata effettuata utilizzando un animale, un maiale chiamato Gertrude, in cui il dispositivo era stato innescato da circa due mesi e semplicemente è stata una dimostrazione di come Neuralink è in grado di leggere i circuiti neurali del maiale, quindi a seconda di quello che faceva si spostava, insomma ha fatto varie attività e si vedeva su un monitor la lettura in tempo reale dei circuiti dell'attività neurale di Gertrude. In realtà fin qui non è un grosso passo avanti per quanto riguarda questo tipo di tecnologia perché erano già state fatte cose del genere, non è una enorme novità e è anche qualcosa di relativamente piccolo rispetto a quelli che sono gli obiettivi di Neuralink di curare malattie incurabili, potenziare il cervello umano, permettere agli esseri umani di comunicare direttamente senza usare la lingua, senza usare la comunicazione verbale ma proprio tramite pensieri direttamente oppure governare vari dispositivi con la mente. Appunto se non mi sarei visto la puntata guardatela perché ci ho spiegato molto bene cosa fa Neuralink. Il fatto sta che Musk ha anche affermato che la sperimentazione sugli esseri umani comunque dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno e dovrebbe cominciare a coinvolgere inizialmente persone che hanno subito gravi danni al midollo spinale. Va bene, questa era l'ultima notizia del giorno, io vi do di nuovo il bentornati, vi do appuntamento a domani, puntata in cui appunto parleremo della situazione covid in Italia e nel mondo e vi ricordo come ogni giorno, anche se lo so, sono finite le vacanze, viene voglia di rassegnarsi, uno torna al lavoro, inizia il 30 anno quotidiano, ma se siete, se vi deprimete guardatevi tale che cambia e in generale, mi raccomando, chi si rassegna è perduto. Ciao!